Amici, non so voi, ma io da piccolo ho sempre sognato di avere una casa sull'albero un po' in stile americano, dai, so che avete presente. Quindi oggi, signori, andiamo a colmare una parte della mia infanzia con una sorta di desiderio represso che ho sempre avuto in Minecraft. Spero che vi piacerà, in caso fosse così vi invito a lasciare un mi piace, come sempre un commento, e se vi va condividete il video e fate sapere a tutti che noi abbiamo una casa sull'albero. Amici, benvenuti in questo undicesimo episodio di Minecraft. Allora, come vedete, il tempo è bruttissimo, ma tranquilli, ci penserò io a migliorarlo, credo, spero. Allora, signori, oggi me l'avete chiesto in tanti, circa, però ho visto che è una buona idea. Andremo a costruire una casa sull'albero. Servirà una sbrega di legna, ma una sbrega. Nel dubbio ci prendiamo pure queste, prendiamo qua, facciamo una bella scorpacciata. Trovo un posto dove fare la casa sull'albero e poi ve lo dico e ci vediamo subito dopo. Dai, la faccio tipo qua in questo spiazzo, così la facciamo vicino alla farm. Ci può anche stare, non troppo distante da casa, così quando vogliamo farci una scappatella ce la facciamo qua. E direi che ci può stare. Per ora prendiamo le dimensioni qua, in caso se c'è da ampliare qualcosa, amplierò. Ma per adesso lo facciamo così. Prendiamo il tronco di quercia. Dobbiamo fare, per tutti quelli che lo volessero riprodurre nel proprio mondo, bisogna fare una cosa del genere. Tra l'altro ringrazio chi me l'ha detto, il commento di chi appunto me l'ha scritto. Lo ringrazio, gentilissimo. O meglio, ringrazio tutti quelli che me l'han detto, molto gentili. Thank you, thank you. Quindi facciamo un blocco base da 4 e ampliamo di 10 blocchi di altezza. Quindi sostanzialmente dovete salire in 10 blocchi di altezza. Ora non li sto contando, perché non li sto contando? E ok, siamo arrivati qua in cima a 10. Perfetto, fin qua tutto facile. Guardate quanto sarà bella alta. Direi proprio che ci sta, così vediamo anche la farm, vediamo tutto il villaggio. Bello, bello, mi piace. Poi ora, prima di fare la parte in alto, tra l'altro sarà abbastanza complicato, direi di andare a fare la base, sempre con questi tronchi di quercia. Tipo facciamo una roba 1, 2, 3, 1, 2, poi possiamo fare 4 qui e qui 3, dipende come volete farli. Qua tipo 5, 3, 4, 5, 1, 2, 3 e 4. E poi ovviamente alla base potete metterli come volete, del tipo così, tipo questo l'ho messo storto e non mi piace, tipo così. Potete metterli un po' come volete. Quindi alla fine questa, diciamo, parte iniziale la scegliete un po' voi, però diciamo che deve essere un po' bella particolare per rendere il tutto diverso. E vedete già che comunque la struttura la sta prendendo, un po' d'albero, no? Alla fine non ha proprio una struttura precisa l'albero, quindi ci può anche stare. Ora signori arriva la parte diciamo un po' più complicata, del tipo, intanto prendiamo la terra e saliamo. Si può anche fare parkour sulla casa sull'albero, è incredibile. Allora saliamo, saliamo, andiamo fino a qua e dobbiamo fare una roba particolare. Allora prendete 3 blocchi e facciamo 1, 2, 3 per ogni blocco. Quindi l'abbiamo fatto qua, poi lo facciamo qua. Non è complicato, però diciamo che poi andare a mettere tutti gli alberelli sarà abbastanza complicato, signori. Tra l'altro se vi sta piacendo, se pensate che vi potrà interessare, vi invito a lasciare un bel mi piacino. Qua abbiamo messo la terra nel punto più sbagliato del mondo, ma la toglieremo, la toglieremo. Ok, vedete che esce una sorta, pardon, di elica. Ecco, ora arriva la parte un po' più scomoda, del tipo, sopra ogni pezzo di elica, chiamiamolo così, dobbiamo metterci l'arboscello. Per ora tolgo il piccone che non serve, prendiamo l'albero, prendiamo pure il bon meal, togliamo anche la palettina e ce lo potenziamo. Perfetto, e lo dobbiamo fare per 4 volte. Ok, perfetto, l'ho fatto a tutti. Ora però, per farvi vedere meglio, vado a dormire e tornerò col sole, perché sinceramente così costruire col buio non mi piace. Mettiamo intanto delle torce un po' a casuccio, così almeno i mostri magari non spawnano proprio qui, o comunque ci vedo già di più. Prima di risalire, signori, dovrete decidere il punto della vostra scala. Io per il momento decido di metterla qua, così almeno saliamo e arriviamo da qua, credo sia il punto migliore. Però ovviamente come un pollo non mi sono fatto la crafting table. Oh, ne avrò 5.000 nel magazzino e non l'abbiamo fatta, vabbè. Fatto sta che un po' di scale le abbiamo già, non so se bastano. Sì, forse bastano proprio giuste giuste. Sì, esatto, perfetto, mamma mia, sembra fatto apposta, quindi abbiamo fatto la crafting table per niente. Perfetto, ok, quindi le scale le abbiamo fatte. Ora mi crafto un po' di assi di quercia, perché ovviamente dobbiamo andare a farci il pavimento. Il pavimento io lo voglio fare con queste assi, se magari voi volete farlo con altro ci può stare. Ovviamente dove ci sono le scalette non potete farlo, però coprite tutto il resto della zona qua. Ovviamente io lo sto facendo con le assi di quercia, se voi preferite farlo con altro, tranquillamente potete farlo. Questo è, diciamo, a mio gusto e piacere. Ognuno è libero di farlo come vuole, però diciamo che se in caso poi non mi piacerà, lo potrò cambiare tranquillamente. E il pavimento è stato fatto, questa è l'entrata, così perfetto, ogni volta possiamo scendere tranquilli e siamo belli contenti. Oh dai, sta uscendo, fidatevi che sta uscendo bene come volevo io, ci sta, ci sta. Signori guardate chi arriva, guardate chi sta arrivando come in ogni episodio. Allora, io vi invito a fare un montage, un montage, un collage, chiamatelo come volete, di tutte le volte che mi hanno invaso il villaggio o che li abbiamo trovati in ogni episodio. Vi giuro, io ve lo giuro che è il record mondiale. Ora, non sto scappando, non credete che sia un codardo, bensì sto andando a prendere le cesoie al nostro magazzino, perché dobbiamo togliere tutte le foglie all'interno, ora vi farò vedere. Già che ci siamo mi prendo altro legno che non fa mai male, prendo pure questo qua, legno di quercia senza la corteccia, fa pure rima. No, non è vero, non fa rima. Appunto, le cesoie ce le prendiamo, tra l'altro lì avete appunto visto la spada di diamante, per chi non avesse visto l'episodio lo invito ad andarla a vedere, e soprattutto mi prendo anche della sabbia, o meglio del vetro. Allora, quindi ce ne saliamo qui e ora vedete cosa ho intenzione di fare. Andiamo a tutti i lati della costruzione e mettiamo tre pillar. E da qui appunto, da questi tre pillar, si andrà a formare il recinto di questa nostra casa. Ora, dove volete voi, quindi questa è la scelta vostra, io faccio tipo una di qua e una di qua. Mettiamo i vetri per andare appunto a vedere il fuori. Quindi facciamo così, facciamo così. Questa è la zona, diciamo, dove vedrò se arrivano delle invasioni, ma fidatevi che arriveranno. Allora, mi sono fatto delle recinzioni di quercia, delle staccionate, chiamatele voi, come voi, come volete. Oggi non so parlare, è incredibile, è proprio 0-0. E le mettiamo ai lati. Ora, signori, purtroppo arriverà il difficile, come è arrivata pure la notte, e io direi di andare a dormire, e poi a malincuore vi dirò il brutto. Allora, mi dovrei craftare degli scalini. Uh, vetro di color bianco, che carino. Blocco d'osso, ok, quanta roba. Allora, dicevo, mi dovrei craftare degli scalini. Però, allora, intanto mi crafto una cesta, che vabbè, mettiamo per ora qua, butto queste. Così almeno poso dentro un attimino tutte le cose che non mi servono, e le riprenderemo più avanti. È arrivato il momento più difficile, ovvero quello del tetto. Allora, intanto iniziamo con la recinzione del tetto. Però bianco, sinceramente, non mi piace. Quindi, li mettiamo così, anche se è simile, non fa niente, in caso un giorno lo cambierò. Fatto sta che devo fare per forza così, perché di saltare giù non ho voglia, e di volare non riesco. Quindi ce ne facciamo così. Come previsto, non bastavano, e quindi me ne vado a craftare molti, molti, ma molti altri. Ok, e l'ultimo l'abbiamo messo, e questo primo pezzo l'abbiamo fatto. Non è troppo difficile, no, però diciamo che adesso arriva quello un po' più scomoda. Allora, mettiamone uno qui, poi così, poi se non sbaglio spacchiamo qui, e andiamoci... Perfetto, ho sbagliato, bravo Massa, e andiamoci appresso così. Allora, sostanzialmente, una volta fatto, lo rifate di nuovo, e finché non si andrà a chiudere in un blocco da quattro. Non è troppo difficile, spero che molti di voi la stiano riproducendo nel proprio mondo. In tal caso, ne sarei molto soddisfatto e contento. Ok, vedete che si va a fare un blocco di due per due, ovvero quattro, matematica bravissima, proprio mua. Qui ci faremo delle belle figate, avevo in mente di metterci la Glowstone, che ultimamente sto sempre usando. Vedremo, vedremo, in caso sarebbe stato migliore con l'albero diabete, sì. Però, vabbè, per ora ce lo teniamo così, non che ci faccia schifo. Signori, quel master del futuro che vi parla, lo so, lo so. L'episodio, ho deciso di dividerlo in due. Tra l'altro, guardate come sono messo, che disagio, barba lunghissima, giorni di quarantena che non finiscono più. È faticosissimo. Ma comunque, signori, se volete la seconda parte subito domani, lasciate un bel mi piace e, in caso, fatemelo sapere nei commenti. Io ve la carico volentieri, perché alla fine il video sarebbe uscito lunghissimo, di 20 minuti. Quindi, ho deciso di spezzettarlo in due. Per l'appunto, se volete la seconda parte, fatemelo sapere. Detto questo, ci vediamo domani, alla solita ora, con un nuovo video, che potrebbe essere Minecraft. Ciao!